Quando si parla di biologico, di biodiversità si fa anche a volte questo errore di interpretazione che c'è la sensazione che il biologico o altre questioni siano relegate a nicchie e che non ci sia invece la possibilità per l'Italia che è il leader da questo punto di vista di sviluppare anche e soprattutto il biologico per i mercati che lo chiedono. Sull'onda di alcuni nostri importanti clienti che ci hanno lanciato questa sfida 15 anni fa abbiamo iniziato ad occuparci di questo tipo di produzione che ci sembrava molto di nicchia, poco interessante per il consumatore in realtà invece questa area della nostra azienda è cresciuta sempre di più e oggi è diventata un motore trainante per noi ma non soltanto il biologico, noi facciamo ad esempio un animale a lenta crescita, collo nudo la carne del pollo è migliore se i giorni di allevamento sono superiori a quelli canonici e viene allevato anche questo all'aperto quindi diciamo che le scelte che noi facciamo pur dovendo mantenere dei numeri rilevanti perché abbiamo una filiera importante sono comunque scelte rivolte a selezionare delle nicchie e cercare di diventarne i protagonisti grazie a tutti